Le operazioni disposte dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola sono state ultimate ieri mattina, dopo il parere favorevole dell'Asla, una ditta incaricata provveduto alla rimozione dei 12 elementi che costituivano la canna fumaria esistente da oltre 50 anni e collegata alla locale caldaia presente al piano terra dell'edificio scolastico sito in piazza della Repubblica ad Agropoli. Dopo i rilievi compiuti nelle scorse settimane si era già provveduto a sgomberare le aule che erano prossime alla canna fumaria interdicendo anche altre zone dell'edificio al fine di evitare ogni tipo di esposizione al materiale. Quindi con la scuola chiusa al fine di tutelare i bambini e personale scolastico gli operai della ditta incaricata hanno provveduto alla rimozione e all'impacchettamento del materiale che verrà smaltito come disposto dalla legge. La vecchia canna fumaria verrà sostituita con un'altra con materiali a norma. Abbiamo provveduto alla rimozione della canna fumaria in Eternit afferma il sindaco Coppola un materiale molto utilizzato negli anni scorsi ma che poi si è appurato a essere pericoloso per la salute. A breve sarà predisposta la nuova canna fumaria a servizio della locale Caldaia. La salute dei nostri ragazzi prima di tutto.